Andiamo direttamente con le domande. Mention, per te sicuramente la prestazione è migliore da quando indossi questa maglia. Quanto è importante questa competizione per voi, portate dal punto di vista personale del feeling per la squadra? Sto in grado di tirare bene e fare bene. Credo che oggi è stato un gioco molto importante per noi. Penso che quello di oggi è stato un grande partita importante per noi. Solo perché ha dimostrato il modo in cui possiamo giocare come squadra. Siamo stati in grado di tirare bene e fare bene. e fare in modo che in tanti possano coinvolti. Difensivamente abbiamo dimostrato buoni elementi. Dimostrando il potenziale con cui la squadra può giocare e potrà giocare. Quindi, se vuoi chiedere a Melvin se finalmente si sente a suo agio questa squadra in questa squadra, se si sta ambientando di sferiamo. Surtro, ti senti pazzi in questa città, in questa squadra? E se mi senti molto comodiché in questa città, in questa squadra, e se mi senti molto siccome il salneo, e questo dal servizio di ammettamento, in questa squadra anche per tutti. Siamo senti solo al piatto per fare una risposta per questi ammett. Per aiuto, amo questa città. La squadra è buona. Il coach mi ha detto che il basket è il mio primo anno. Il coach mi ha detto che, dato che questo è il mio primo anno di basket professionista, ho bisogno di trovare dei giustamenti. Il coach mi ha detto che continui a giocare nel modo giusto, continui a giocare nel modo giusto, in modo che la partita venga da me e dare il tutto più meglio. Ti senti migliorato rispetto al periodo del Covid, e che caratteristiche versi di aver fatto un passo in qualità? Do you feel grown up from the liberal college, and in what case do you think you increase your career? I don't know if I would necessarily say grown up, but I think that this is definitely a different league, and I've had to adjust and learn. Non so se il termine giusto sia quello di crescere, ma più di altro di adattarsi ad una differente lega, ad un differente livello di basket. Uno degli elementi più importanti è stato appunto evolvere sul perimetro e fare modo di farlo tutti insieme. Perchè comunque sia ho caratteristiche di diversità che mi consentono di giocare sia sul perimetro sia in post che il coach che sollevare il giusto. Grazie.